Un bambino, un ragazzo cresce, si sviluppa sano ed è una persona equilibrata quando noi rispettiamo che cosa? Il loro essere. Il genitore, così come la scuola, deve aiutarli a sviluppare la loro essenza, a farlo uscire fuori. Noi dobbiamo essere semplicemente dei facilitatori, dei comunicatori, degli educatori, rafforzarli sotto questo aspetto. Ecco perché è importante, ecco perché la comunità educante, perché anche all'interno della comunità familiare, a volte anche senza volere, perché mai e poi mai un genitore penserebbe di poter o voler fare un danno al proprio figlio, però bisogna intervenire. Perché è questo? Perché se noi interveniamo, soprattutto c'è da dire una cosa, nella fascia di età che si arriva, per esempio quella più delicata, io la suddivido, per esempio dai primissimi anni di vita, fine ai sei anni, poi dai sei anni, fine ai dodici anni, per tappe. Cosa succede? Che se nel minore ha una percezione, parliamo di percezione, perché spesso il genitore dice ma io gli sono sempre vicino, gli do tutto il tempo possibile, ma cosa devo fare di più? Non lo riempio solo di giochi, no? E quindi vado ad occupare uno spazio fisico, ma il bambino non riesce a percepire nello spazio emotivo quella figura di riferimento. E quindi lì se non si riesce a formare e non si ha la consapevolezza del sé, in automatico cosa succede? Che quel piccolo problema tu te lo trascini fino a quando non diventa più grande e può esserci una separazione, no? Una separazione della persona che può poi facilitare altre, il sorgere di altre dinamiche che non sempre sono positive, ecco, per la crescita di una persona equilibrata. Tu col ragazzo ci devi parlare, per esempio, fino ai 12-13 anni ce li hai in pugno, li stai formando, poi dopo diventano molto più importanti gli amici, la compagnia, la guida c'è e ascoltano il genitore se c'è stato prima in questi 10-12 anni di crescita, ma se non c'è stato, tu trovi quei genitori in cui dicono ormai sei grande, ti arrangi da solo, se capisci che devi studiare bene, altrimenti vai a lavorare come tutti gli altri e capisci cosa è il pane, no? E' perché questo significa lavarsi le mani, rinunciare, perché crescere un figlio è molto, ma molto sacrificante, bello, tutto quello che vuoi, ma ti richiede proprio, ti succhia tutte le risorse, come mi dice qualche genitore a volte, no? Perché? Perché la partecipazione è sempre continua, il figlio magari se ne sta in silenzio, ma vorrebbe sentirsi dire da te non solo come è andata la giornata, ma vorrebbe che lo guardi, che lo guardi negli occhi e magari gli dici cosa c'è, cos'è che non va, fammi capire, possiamo parlarne insieme, nella vita ci sono le soluzioni, puoi scegliere la strada A, la strada B, la strada C, sì, le conseguenze per la A sono queste, per la B sono queste, per la C sono queste, ma parlare, condividere, comunicare, far vedere che anche il genitore magari può aver avuto una qualche difficoltà e che comunque soltanto riflettendo, umanizzando senza togliere l'autorevolezza a quel genitore, così come anche il docente, il chinarsi e farsi piccolo, no? Tu quando parli con un bambino che fai? Ti chini, ti abbassi al suo banchetto, ti porti allo stesso livello guardandolo negli occhi perché vuoi che la comunicazione sia efficace e funzionale.